e bella a tutti ragazzi sono Nicolo Di Bernardino e oggi siamo in questo video oggi faremo una volta speciale, oggi faremo un footbrawl 5 contro 5 che la mappa si chiama intersepature gelide intanto ragazzi allora c'è l'evento pxp dobbiamo far gol a riversare per ricevere un punto che la partita finisce quando una squadra in va a 2 o allo scadere il tempo quindi ragazzi sarà molto facile prima di iniziare lasciate like, iscrivetevi al carattere per campare intanto giochiamo e buona visione intanto alzo il volume un pochino anche se a basso però non si sente va bene iniziamo ok 5 contro 5 sono Mortis, Gas, Bombardino, Edgar e 8 bit vabbè ragazzi tutti in squadra 2 8 bit prendiamo qui è molto difficile ragazzi non è difficile, è facile ok facciamo un tiranno ah Bombardino perfetto abbiamo già segnato ok ok non voglio perdere va bene anche va bene anche cambiare brole oh dovevo segnare no l'ha parata vabbè il portiere sarà parata dai dai ci sono la parata perfetto abbiamo chiudo la partita ragazzi l'abbiamo fatta vincere ok un'altra vittoria ce l'aspettavamo e siamo a più 13 vedete 15 serie di vittorie in football intanto c'è un'altra partita per vincere non perdere perché insomma nel video precedente che avevo perso ne avevo perso due volte non sono capaci i cacciatori quindi inizieremo a fare football 5 contro 5 che sta mettendo non la formula cioè adesso cioè adesso facciamo il 5 contro 5 è appena già segnato vedete c'è scritto il giocatore c'è il giocatore che ha appena segnato ok ok detto questo è una mappa di calcio ok non sta al portiere spezzetto ha segnato scritto il russo cioè scritto il russo è un'altra vittoria e stavolta 5 trofei extra oh premio star super raro io non trovo non trovo nemmeno il leggendario ok intanto cambiò brawler aspettare che si è bloccato il telefono oddio sono sono sbagliato non è il primo ma rosa quindi proviamo con rosa e ragazzi non ci andiamo a perdere ma va bene anche va bene anche pareggiare se finiamo in pareggio se finiamo in pareggio potrebbe essere va bene anche pareggiare scusate un momento ok iniziamo ok ho ucciso Bea perfetto basta che non la perdiamo 5.5 iniziamo a uccidere altri ok non mi ha preso quella super di Dana Mike non dobbiamo uccidere basta che non la perdiamo e ho segnato ho già segnato ragazzi non ci credo corroso e devo vincere va bene anche cambiare brawler non al 3.13 che la perdiamo questo vale due gol questo vale un punto tutto solo tutto solo occhio la palla al portiere e ho appena segnato pure la doppietta e ci andiamo pure a casa a portare la vittoria beh beh ragazzi sono stato bravo intanto sto per recuperare le coppe ma poi faremo road to 2000 coppe quando arrivo fino a 1965 o 1969 facciamo il video delle road 2000 coppe oppure faremo un altro video di Brawl Stars eh ragazzi dobbiamo recuperare le coppe io devo recuperare ragazzi ho già ricominciato da capo da due settimane che ho ricominciato da capo ok tutto iniziamo a giocare ok ragazzi concentriamoci e iniziamo a giocare ok intanto occhio eh adesso devo stare metto fuori dal campo la palla che non la ruba nessuno occhio al portiere va per tirare e ho segnato perfetto ok ok ho ucciso quattro nemici no li ho uccisi Diana perfetto perfetto vittoria vittoria lo siamo meritati altra vittoria la diciottesima vittoria che vinco perfetto ora colt ragazzi sto provando tanti brawler per vincere vediamoci con colt sicuramente perderemo perché colt è scarso perché c'è 2000 non so quanta vita c'è 3640 non so i punti salute si può fare insomma ragazzi con colt non si può fare ok scusa se non faccio più punti danno con tic devo fare qualche punti danno ok ok facciamo qualche punti danno ok ho rubato no con colt sono scarso ti ricordo poi cambiamo brawler intanto abbiamo segnato la nostra squadra per vincere ok no mi ha appena ucciso come fa Danomack la super di Danomack mi ha appena ucciso cioè mi ha appena funzionato la super mi ha appena ucciso ma abbiamo vinto la squadra abbiamo vinto con football va bene adesso siamo alla dicianvesima e siamo arrivati nel 1400 con il premio star riteniamolo oh epico vediamo epico la reazione di Jesse arrabbiato la rabbia di Jesse beh ragazzi facciamo che rendite se faremo altre 5 partite beh ragazzi insomma alcune 6 o alcune 7 e che ne so ragazzi poi domani dovrei registrare un altro video eh perché raga devo ultimo a giocare ok iniziamo occhio eh occhio a Danomack occhio a Danomack no ho appena rubato ho appena passato la palla dai dall'altra squadra ho appena la palla no perché ho sbagliato ok però ho recuperato la palla inizio a tirare l'ho fatto con un colt adesso poi cambio brawler no scherzando rimango con un colt ok io segno segno raga si segno io ho appena segnato per colpa di un lag ragazzi vabbè ragazzi non ho niente da dirvi va bene va bene intanto vi lascio a un volume no sto scherzando scusate un momento se parlo così allora intanto abbiamo 5 amici sono secondo con 1415 coppe ok primo con 3807 e raga che vi posso dire su questa partita va bene facciamo un'altra partita basta che non perderemo con colt eh con colt mi sa che so scarso iniziamo faccio altre altre partite ok alcuni si però alcuni no ok sto per segnare ok no stavano per segnare no stavano per segnare ok abbiamo rubato la palla e non ci hanno segnato perfetto uccido io ok uccide Brock mi aspetto ma ti dovevi segnare dovevi segnare ok e dai abbiamo segnato a lui mentre che hanno ucciso abbiamo segnato la ventunesima no scusate mai valutare Brostarzo scusate qui c'è un'altra serie di regali giornalieri e adesso ho l'undicesimo giorno come due anni fa raga credi se faremo la penultima anzi allora il video mi sa che può durare dieci minuti no 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 o dodici minuti o tredici minuti raga sto facendo tante partite per recuperare tutte le coppie iniziamo che paura no 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 sto andando a caso stavo stavo andando su un nemico a caso qualcuno mi sta osservando bravo mi da porto perfetto e ragazzi il video può terminare qui aspettate un momento aspettate ragazzi il video può terminare qui e noi ci vediamo come sempre al prossimo video di Brostar